signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale e dato che oramai sono mesi che stiamo parlando del dungeon è anche arrivato il momento di andare a parlare dello stile di gioco che più lo rappresenta questo mi sa che sarà uno di quei video la cui sessione dei commenti sarà interessante però prima di cominciare una serie di comunicazioni di servizio perché sta per cominciare il periodo degli speciali del canale avremo sia il video speciale di halloween dei racconti del terrore che il complanno del canale che anche quest'anno il tanto atteso video di luca comics quindi dando per ordine primo di tutto se avete delle domande riguardo a me riguardo il canale riguardo a qualcosa scrivetelo nei commenti sotto perché come sempre durante il video del compleanno io risponderò anche alle vostre domande magari soddisferò qualche vostra richiesta bizzarra ne sono già arrivate un paio poi oramai è quasi un mese in realtà che sto raccogliendo i racconti del terrore di halloween ma al momento in cui registro non ho ancora fatto una cernita generale quindi siete ancora in tempo a mandare qualcosa in descrizione di questo video trovate i link al server di disco da gruppo i telegram dove sto raccogliendo le varie proposte se avete qualcosa da raccontare che è successo al vostro tavolo di così improbabile umoristico o semplicemente che vi ha fatto talmente arrabbiare che vi ha segnato mandate il racconto e potrebbe apparire nel video appunto i racconti del terrore di halloween per quanto riguarda luca allora io dovrei essere lì i primi due giorni che dovrebbero essere giovedì e venerdì e forse il sabato mattina però non so ancora nulla non so dirvi né dove sarò né che eventi parteciperò o creerò stiamo ancora parlando insieme a mauro che forse faremo qualcosa legato al libro scrivi la tua avventura però in questo momento non so dirvi niente per quello seguite i social vi posso dare informazioni in tempo reale la parte delle premesse di questi video sta diventando più lunga del video comunque finita questa lunghissima presentazione torniamo a noi come avete visto dal titolo questa settimana parliamo di eumate che è lo stile di gioco del dungeon per antonomasia fatto strano per il gioco di ruolo in cui tutti gli acronimi sono praticamente in inglese eumate è una cosa che vista è solamente in italiano e sta per entra uccidi mostro arraffa tesoro esci forse i più vecchi tra voi lo ricordano come lo stile delle porte sfondate a calci e per la comunità internazionale probabilmente il termine che ci va più vicino diciamo che dovrebbe essere a can slash ma in realtà colloquialmente è noto proprio come il manchkin play ora al di là della deriva semantica per quelli che non lo conoscono cos'è lo stile eumate e come va a incasellarsi nella galassia dei centinaia di stili diversi che caratterizzano le varie scuole del gioco di ruolo come è facile intuire lo stile eumate prevede un gioco molto più frenetico ma che si concentra praticamente solo sugli aspetti meccanici e soprattutto sugli aspetti tattici del gioco mettendo in secondo piano tutto quello che è l'ambito sia di narrazione che di interpretazione di ruolo durante una sessione in una sessione umate lo scenario in cui i giocatori devono confrontarsi è visto praticamente solo al punto di vista tattico ogni situazione che i personaggi si troveranno a affrontare è un problema che deve essere risolto con l'astuzia e o con l'applicazione delle regole per cercare di massimizzare i guadagni dei personaggi a ridurre al limite la possibilità di sconfitta e quindi di fallire lo scenario inutile dire che tutti gli scenari preparati esplicitamente per essere giocati con uno stile eumate già di per sé non prevedono nulla che possa distrarre i giocatori da quella che è la sfida tattica dello scenario di gioco in altre parole se qualcosa non è direttamente legato ad affrontare la mappa o i mostri o comunque la condizione di vittoria dello scenario quella cosa probabilmente non sarà presente nell'avventura un dungeon pensato da per le umate avrà quindi molti mostri molte trappole trabocchetti situazioni in cui i giocatori dovranno calcolare attentamente le loro possibilità di uscire vivi da qualcosa ma probabilmente non avrà spazio per l'introspezione dei personaggi o per introdurre temi etici o dilemmi morali durante la sessione per quanto paradossale uno scenario umate normalmente introduce anche una condizione di vittoria per i personaggi cioè la situazione che si viene a creare normalmente ha un suo obiettivo stabilito che per quanto i giocatori di ruolo non possano vincere o perdere una sessione i loro personaggi dovranno conseguire un obiettivo e sarà chiaro se quell'obiettivo è stato conseguito o meno quindi i personaggi potrebbero perdere la sessione umate proprio per questo le umate predilige tutti quegli elementi che abbiano una soluzione chiara e precisa che possano essere risolti in una maniera obiettivamente corretta o che abbiano una chiara discussione all'interno delle regole e tralascia qualunque elemento più sfumato o lasciato al mero giudizio alla mera interpretazione dei giocatori in pratica le umate di tutti i modi di giocare il ruolo è quello che si rifà più alle origini ancestrali del gioco di ruolo come costola uscita, come spin off dei giochi tattici nelle umate i giocatori sono chiamati ad affrontare la situazione di gioco come se fosse un war game e cercare di sconfiggere se non il master lo scenario che il master ha portato al tavolo ora prima di proseguire voglio prendermi un attimo per fare una riflessione perché le umate è uno di quegli argomenti che all'interno del mondo del gioco di ruolo suscitano sempre enormi polemiche del tutto immotivate c'è una sorta di luogo comune che vede chi preferisce uno stile umate come una sorta di giocatore di seconda categoria o letteralmente che le umate non sia uno stile di gioco di ruolo legittimo non sia il vero gioco di ruolo ora ovviamente questo non ha senso fin tanto che restate nei limiti del regolamento che state usando qualsiasi cosa state facendo al vostro tavolo è legittima tra l'altro se vogliamo essere fiscali soprattutto quando parliamo di manuali trad o sr soprattutto i titoli più vecchi in cui il sistema non propone proprio un metodo per definire azioni che non siano azioni di combattimento le umate sarebbe probabilmente l'unico modo legittimo per giocare di ruolo perché è quello che non prevede nessun'altra sovrastruttura o un biru o un russo come volete chiamarla da parte del tavolo ho voluto chiarire questo punto solo perché non voglio trovarmi nei commenti qualcuno che scrive un lunghissimo papiro che si poteva riassumere in a me non piace tra l'altro le umate è anche molto più diffuso di quello che ci si aspetta inizialmente soprattutto perché come dicevo nell'ambito sr e nell'ambito tradizionale in realtà in moltissime campagne che magari non sono scritte esplicitamente per utilizzare solo uno stile umate ma è comunque possibile trovare sessioni o anche interi archi narrativi che sono proprio caratterizzati da questo stile di gioco magari anche inconsciamente da parte del master e dei giocatori di tutto il tavolo e normalmente questo succede proprio in concomidanza con il dungeon proprio perché l'ambiente claustrofobico del dungeon si presta molto istintivamente a essere approcciato da parte dei giocatori come un ambiente tattico, un ambiente pericoloso e quindi c'è la naturale spinta a focalizzarsi su la protezione di se stessi mettiamola così quando decidete di inserire un dungeon all'interno della vostra campagna della vostra quest o quello che è dovete infatti sempre tenere a mente che per la sua stessa natura il dungeon è un luogo pieno di pericoli in cui i personaggi vanno allo scopo di ottenere qualcosa di cui hanno bisogno per la loro impresa altrimenti lo eviterebbero questo qualcosa potrebbe essere il mistico artefatto da cui dipende la trama dell'intera campagna potrebbe essere banalmente il tesoro con cui i giocatori si comparano l'equipaggiamento potrebbe non avere alcun peso narrativo e essere semplicemente la condizione di vittoria dello scenario per la sua stessa natura però questo porta il dungeon a essere un ambiente che deve essere affrontato con strategia sia da parte dei personaggi giocanti ma anche degli stessi giocatori che li manovrano il dungeon è pieno di mostri e pericoli e deve essere navigato cercando di ottimizzare al meglio le mosse per rischiare il meno possibile in un ambiente che proprio per la sua natura è estremamente ostile e volenti o nolenti questo porterà i giocatori a ottimizzare molto di più le loro scelte tattiche anche a discapito di quella che è la pura interpretazione questo non vuol dire che se nella vostra campagna avete inserito un dungeon o più di un dungeon allora non ci sia spazio per nient'altro e l'unico modo in cui potete affrontarla sia le umate ovviamente no semplicemente per tutti gli altri aspetti del gioco di ruolo sarà meglio trovare una collocazione diversa per non andare a disturbare lo scenario tattico i giocatori avranno tutte le possibilità che vogliono di presentare i loro personaggi alla locanda prima che gli venga affidata la missione avranno la possibilità di far interagire i personaggi tra i loro e far uscire temi rilevanti per i singoli personaggi con i vari png con cui dovranno parlare o anche tra di loro mentre i loro personaggi sono in viaggio per arrivare al dungeon o sono usciti dal dungeon e adesso devono spendere il loro tesoro ma quando sono all'interno del dungeon probabilmente è molto meglio che rimangano concentrati sulla situazione presente anche per gli appassionati della verosimiglianza ha perfettamente senso che quando gli avventurieri sono al lavoro si comportino in maniera professionale immaginatevi un gruppo di soldati che sta pulendo una palazzina in una zona di guerra e poi uno ferma tutti gli altri perché sente la necessità di raccontare il suo tragico retroscena ai suoi compagni di squadra questo non vuole neanche dire rinunciare all'interpretazione di ruolo i giocatori potranno comunque continuare a parlare usando il loro personaggio e anche a prendere le varie decisioni tattiche saranno chiamati a prendere usando la mentalità del personaggio che interpretano e non la loro magari volutamente sbagliando le mosse o facendosi aiutare dai compagni perché il loro personaggio ha capacità che loro stessi non hanno tutto questo rimane invariato semplicemente il gioco rimarrà focalizzato sul conseguimento degli obiettivi proprio perché in un ambiente del genere i personaggi stessi vedranno come priorità il fatto di essere il più efficienti possibili per sopravvivere all'ambiente e ovviamente starà a voi come master inserire tutti i possibili momenti per l'interpretazione di ruolo dei vostri giocatori o per qualsiasi cosa non possa essere fatto all'interno del dungeon o prima o dopo o in particolari momenti durante studiati apposta appunto per fare in modo che tutti i giocatori possano avere sia l'esperienza umate sia altre esperienze a cui potrebbero essere interessati a scanso di equivoci in tutto questo video abbiamo parlato di dungeon facendo sempre riferimento all'elemento narrativo all'attrezzo del master del dungeon per come definito all'interno del gioco di ruolo ovviamente tutto questo discorso non ha senso se il dungeon esiste a livello estetico come caratterizzazione della scena ma non è un elemento meccanico all'interno del gioco che state giocando questo lo dico perché ci sono un sacco di giochi soprattutto di giochi narrativi che comunque si rifanno a un'estetica fantasy e quindi magari è possibile che durante il gioco ci siano effettivamente delle scene ambientate dentro un dungeon perché è un elemento topico dello stile high fantasy e classical fantasy il fatto però è che se il gioco non prevede una mappa tattica, mostri, combattimenti e cose del genere non c'è un elemento meccanico di dungeon è semplicemente la descrizione e la scena per renderla più immersiva o quello che sarà chiarito anche quest'ultimo punto possiamo dire che per questa settimana ci fermiamo qui adesso la parola sta a voi scrivetemi sotto nei commenti se voi già conoscevate lo stile Eumate se lo apprezzate, se non lo apprezzate o quanto spesso ricorre nelle vostre sessioni di gioco come ho detto all'inizio seguite i social perché sta per iniziare praticamente un intero mese praticamente caratterizzato tutto da tutti i lavori collaborativi della community, del canale e se non fate parte ancora delle varie community trovate i link sotto in descrizione così potete entrare partono progetti sempre più strani lì dentro e voi non sapete cosa sto preparando per mattia come sempre se avete domande, dubbi o perplessità scrivetene nei commenti qui sotto se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo per poter crescere il canale iscrivetevi e suonate la campanella se volete ricevere le notifiche io sono il Master CAE e noi ci vediamo nel prossimo video